Salve a tutti quanti, io sono Trenas e benvenuti al video riguardo le rune della precisione. Andremo a vedere nello specifico le rune della precisione per poi associarle a tutte le varie rami, anche se sappiamo già che il ramo dell'ispirazione è quello che dà statistiche bonus in più quando scegli qualsiasi degli altri rami. Andiamo a vedere la precisione. Precisione diventa una leggenda, attacchi migliorati e danni sostenuti. Questo è fatto apposta per gli adcari e comunque coloro che autoattaccano molto. Ci sono certi bruiser tipo, non lo so, Riven, Fiora, Jax, persone del genere che sono interessate al danno sostenuto. Quindi andiamo a vedere che cosa offre il ramo della precisione. Il ramo della precisione si presenta come sempre con tre keystone rune, le rune chiave all'interno di questo ramo e quindi vedremo uno per volta le rune principali e le rune secondarie. La runa principale numero uno, l'attacco sostenuto. Gli attacchi contro lo stesso campione conferiscono attacco fisico aggiuntivo che si accumula all'infinito che scala da 1,5 a 4 di attacco fisico per carica e questo raddoppia per i campioni da mischia. Quindi da 3 di attacco fisico fino a 8 di attacco fisico e questo raddoppia per i campioni in mischia. Molto molto alto per i campioni in mischia. Molto molto forte. La durata di ogni carica è di 4 secondi. C'è una cosa importante a dire. È molto forte come runa. Nel senso, in un uno contro uno è molto efficace. Infatti su top laner come Irelia, Renekton, Fiora, Jax, Trindamer, sarà molto molto efficace per combattere una persona in un uno contro uno. Però c'è da considerare una cosa. Quando cambi il bersaglio, tieni solo la metà delle cariche. Quindi all'interno di un teamfight è efficace se devi provare a uccidere un singolo bersaglio. Esempio, stai sfuggendo da un tank e devi uccidere solo lui e ti concentri su di lui. Ma se tu continui a cambiare il bersaglio all'interno di un fight, il tuo attacco sostenuto perderà subito metà delle cariche. Quindi tutto l'attack damage che hai ottenuto nella varietà di secondi di attacchi che hai fatto sull'avversario le perderai tutte quante. Molto molto pericoloso questo, nel senso che se tu perdi le cariche sei fregato. Ti permette di concentrarti su un singolo bersaglio e ucciderlo più velocemente, ma non puoi uccidere più bersagli contemporaneamente. Campioni che sfruttano Runan o campioni che cambiano spesso bersaglio non sfrutteranno al 100% l'attacco sostenuto e quindi non glielo consiglio. Personaggi invece come una fiora, un'Irelia, personaggi che puntano a fare le uno contro uno o comunque puntano a uccidere un singolo bersaglio per volta, ad esempio Vein, saranno in grado di sfruttare molto molto bene questa runa. Passiamo alla seconda, il tempo letale. Cosa succede? Dopo aver danneggiato per un secondo e mezzo un campione, ottieni tra il 30 e l'80% in base al livello, quindi a livello 1 ottieni il 30%, poi per i vari livelli sempre di più, fino a raggiungere il livello 18 che ti darà l'80% della velocità d'attacco per 3 secondi. Attaccando un campione estendi questo effetto fino a 6 secondi, quindi massimo di 6 secondi in cui però hai l'80% dell'attack speed. Per ricaricare questo effetto ci vogliono 6 secondi, quindi i 6 secondi che tu fai di autoattacchi, poi devi aspettare un altro secondo e mezzo per far partire l'effetto e poi di nuovo comincerà effettivamente il tempo letale. Da notare una cosa, il tempo letale ti permette di superare momentaneamente il limite di velocità d'attacco. Il limite di velocità d'attacco su League of Legends è 2.5 attacchi al secondo. Alcuni campioni ci si avvicinano, ma la cosa è che alcuni campioni ci si avvicinano e con questo possono superarlo. Mi immagino un Cogmo, mi immagino una Tristana, mi immagino una Xaia, mi immagino campioni che sfruttano l'Arden Sensor. Ci sono tanti, tanti campioni che hanno queste interazioni in cui gli viene potenziata la quantità di velocità d'attacco e adesso col tempo letale possono superare i 2.5 attacchi al secondo. Molto forte, ma risulta efficace solo su quei campioni che sfruttano meglio l'Attack Speed piuttosto che l'Attack Damage. Andiamo avanti con il Fleet... Questo qua è Fleet Footwork. Purtroppo è buggato il sito e quindi non lo fa vedere effettivamente, ma è quello che noi conosciamo come Sete del Sangue del Signore della Guerra in italiano, oppure Warlord Bloodlust. Molto semplicemente tu attacchi, ottieni 100 cariche e ti curi per queste cariche che hai fatto. Autoattacchi un'avversario, ti curi e ottieni la Movement Speed Bonus. Semplice e pulita, è quella che conoscete tutti quanti. Selezioneremo adesso soltanto l'Attacco Sostenuto, giusto per andare avanti nelle successi delle scelte. La sovraguarigione e il 50% della cura in eccesso diventa uno scudo che decresce fino a un massimo di 30 più 8% della salute totale. Cosa significa? Se tu ad esempio hai una Life Steal, hai della Life Steal, e cosa succede? Sei full vita, ti generi dello scudo per il 50% della vita che di solito ti cureresti. Molto, molto utile ad esempio per chi vuole evitare di essere barstato da campione avversario. Se vuoi evitare di essere barstato da un Assassin, cosa fai? Prendi e prendi la sovraguarigione, così che... Cosa succede? Prendi e ti curi. Ti curi, ti curi, ti curi, magari colpendo campi della giungla, magari colpendo Wave di Minion, e ad esempio sinergizza così bene con la Bloodthirster, la Sete del Sangue, la Bramasangue, sì, si chiama Bramasangue in italiano. Cosa succede? Hai uno scudo enorme con cui poter combattere i campioni avversari. Questo è fatto apposta per poter andare a negare gli Assassin. Fatto apposta solo per quello. Una volta che raggiungi una certa fase del gioco, ottieni una buona quantità di scudo in più, 30 più 8% della tua salute totale. Di solito gli AD Carry arrivano sui 2000 HP, quindi l'8% arrotonniamo a 10, giusto per essere sicuri, sono 200 HP, 230 di scudo. Non male, con quello del Bloodthirster è comunque un buon quantitativo, ti aiuterà moltissimo. Non solo le cure dagli alleati, viene invece convertito il 50% della cura in eccesso. Quindi, esempio, se una Soraka ti cura, il 50% della cura viene trasformato in scudo. Questo funziona anche su quegli effetti, molto molto efficace, molto interessante, per andare a negare gli Assassini. Andiamo invece a parlare del Trionfo. Le eliminazioni ripristano il 15% della tua salute mancante, e conferiscono 25 di oro aggiuntivo. In pratica, nel momento in cui tu uccidi un campione, ti curi, ti salvi, magari stavi per morire dagli Knight, no, ti curi, istantaneamente, del 15% della tua salute mancante. Per fare un paragone, se sei ad esempio a livello 9, dovresti avere circa un migliaio di HP, considerata magari una Doran Blade. Sei rimasto a 50 HP, l'Ignite ti ha colpito, uccidi il support che ti ha lanciato l'Ignite, il 15% della tua salute mancante, che tu eri a 50 HP, quindi sono 950 HP che avevi già perso, il 15% sono all'incirca 140 HP. Con l'effetto dell'Ignite ti cura di 70, e tu ti salvi pelo, 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 giusto, giusto, preciso, perfetto. Dici, eh, dai, è andata bene. Ti sei portato a casa 25 gold in più, e il 15%, e non sei morto non dando una kill. Non male. Utile quando sei in quelle situazioni pericolose che sai che finirai a bassi HP contro un avversario. Parliamo invece della presenza di spirito, che è un'altra runa. Quando hai meno del 60% di mana, i tuoi attacchi base contro i campioni accumulano concentrazione fino ad un massimo di 5. Quando esci dal combattimento, tutta la concentrazione viene convertita in mana. Gli attacchi energizzati accumulano più concentrazione. La cosa è che non si riesce a capire quanto mana rigeneri effettivamente, quindi non possiamo interpretare correttamente questa runa, proprio perché manca uno dei valori fondamentali. Quanto mana viene rigenerato per ogni carica di concentrazione? Non si sa. Non si sa davvero. Andiamo avanti. Andiamo avanti con quelle che sono le rune leggenda. Le rune leggenda hanno praticamente tutte lo stesso identico effetto, nel senso che devi ottenere delle cariche di leggenda e ogni 30 punti ottenuti ottieni un effetto bonus. Come ottieni punti? Ottieni 20 punti per l'eliminazione dei campioni, 20 punti per l'eliminazione dei mostri epici tipo il drago, il baron, il rift herald o l'elder drake, 4 punti per l'eliminazione dei mostri grandi, quindi campi all'interno della giungla, e un punto per l'eliminazione dei minion, quindi per ogni minion che tu uccidi tu ottieni un punto. A 30 punti ottieni una carica di leggenda. Le cariche di leggenda si possono trasformare in una serie di statistiche. La prima versione è la lacrità. Otteni il 5% di velocità d'attacco immediatamente, più un 3% aggiuntivo per ogni carica di leggenda. Quindi 3 per 5 è 15, più 5 sono il 20% di attack speed, una volta che hai ottenuto tutte le cariche di leggenda. Non male, principalmente mirato agli adcary questa cosa, fatta apposta per permettere agli adcary di avere più attack speed, visto che spesso e volentieri gli adcary cosa facevano? Prendevano quintessenze di attack speed, o comunque anche le rosse di attack speed. Certi campioni hanno proprio una necessità principale di avere più attack speed e meno attack damage. Questo è il loro scopo. Alla carità è la loro soluzione. La tenacia invece, leggenda tenacia, cosa succede? Otteni il 5% di tenacia, più un 3% aggiuntivo per ogni carica di leggenda. Come sempre la carica di leggenda le otteni nello stesso modo precedente, farmando minion, uccidendo mostri, uccidendo campioni, qualsiasi cosa, ma, ma, ottieni il 5% di tenacia, più un 3% aggiuntivo per ogni carica di leggenda. Cosa significa? Ottieni un totale di 20% di tenacia. Per chi non si ricordasse che cos'è la tenacia, molto semplicemente la tenacia è quella statistica che ti permette di diminuire la durata dei controlli avversari. Uno stun, uno snare, uno slow, qualsiasi cosa, la tenacia ti permette di ridurre la durata di questi effetti negativi sul tuo campione. semplice, molto forte, potrebbe essere efficace su dei top lane, ad esempio una fiora, una riven, che hanno bisogno di avere spazio e tempo per fare il loro danno, e subire crowd control non è qualcosa che loro vogliono. Carino, mi piace, mi piace molto. La leggenda, invece, stirpe, cosa fa? Otteni l'1% di rubavita per ogni carica di leggenda, e puoi ottenerne, ovviamente, massimo 5, quindi 5% di lifesteal. Tra tutte, penso che questa sia la versione peggiore di leggenda, sinceramente. 5% di lifesteal non è così tanto, non farà questa grande differenza. Sceglierei sempre tenacia oppure lacrità, ma ovviamente, vi ricordo, molto importante, il fatto che tutte queste rune possono essere ancora modificate i valori, possono essere addirittura rimosse queste rune, quindi quelle che vedete adesso sono delle rune temporanee. La versione finale la scopriremo solo durante l'8 novembre, solo quel giorno, sapremo effettivamente quali saranno le ultime rune. Andiamo avanti a vedere l'ultime 3 rune all'interno del ramo della precisione. L'ultime 3 rune all'interno del ramo della precisione sono il colpo di grazia, il taglio profondo e l'ultima sfida. Il colpo di grazia che cosa fa? Infliggi 5% di danni in più ai campioni con meno del 40% di salute. Cosa significa? Che se un avversario è basso di vita, tu fai più danno all'avversario. Esisteva già una maestria del genere nel sistema precedente di maestrie, adesso è presente invece come una runa all'interno del ramo di precisione. Il taglio profondo invece è una nuova runa molto interessante, infliggi fino all'8% di danni in più ai campioni e nemici in base a quanta salute hanno più di te. Questo è fatto apposta perché quando ti trovi contro delle team comp che hanno tanti tank, ti permette di affrontarli con grande facilità. Hai magari contro un Chogat, un Gragas e un Brom e sei una povera fragilissima Tristana, fai più danno dipendentemente da quanti HP hanno più di te. Più loro buildano HP e poi avrai un bonus che scala fino a salire all'8% di danni. Non si sa come scala, quindi non posso aiutarvi su questo, non è specificato all'interno di questa pagina. E infine, questa qua è l'ultima runa del ramo della precisione. L'ultima sfida. infliggi fino al 5% di danni in più ai campioni quando hai meno dell'80% di salute. Probabilmente il valore del meno di 80% di salute verrà modificato per forza di cose perché è veramente molto molto alto come valore. Cioè, all'80% di salute vuol dire che dopo un paio di autoattacchi un Audi Carry è già con il 5% di danni bonus in più. Sì, ok, va bene, sensato, magari contro un assassino o cose del genere, ma deve essere sotto al 50%. Probabilmente verrà nerfata per forza di cose perché sennò sarebbe veramente veramente folle. E queste sono quelle che sono le rune all'interno del ramo della precisione. Scegliendo altri rami ottenete dei bonus. Adora soltanto il ramo dell'ispirazione scelto come ramo secondario ti dà un bonus in più. Infatti sali a 18% di velocità d'attacco. Ma puoi scegliere tutti gli altri rami sia la stregoneria che la determinazione che la dominazione. Se scegli precisione puoi entrare all'interno di tutti gli altri rami. Se invece scegli un altro di rami alcuni di questi rami non ti permettono di scegliere gli altri rami. Esempio se io scelgo la dominazione non potrò scegliere come secondario la determinazione. Ma andremo a vedere questo con calma all'interno di tutti gli altri video. Questo è quanto per i video a precisione vi aspetto fra un'ora per il video su tutte le altre rami delle rune. Io sono Trenas e ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao! Ciao!